Un nuovo appuntamento con cronache e commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura come di consueto i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Rigassificatore, respinto ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Sciopero dei rider dopo la morte del loro collega, l'impegno della regione per la tutela dei fattorini digitali. Termalismo, approvata la legge di modifica del settore. È stato respinto a maggioranza un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che intendeva impegnare il presidente e la giunta regionale a interrompere qualsiasi atto fatto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino. Un appello al commissario Gianni, secondo la capogruppo Pentastellata e prima firmataria Irene Galletti. L'atto ha ricevuto il voto contrario di PD e Italia Viva, favorevoli tutti i gruppi di opposizione. È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del presidente e commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice. Cioè quella di interrompere, fare interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino, da parte di Snam, senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale, quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge. E soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse. E stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili, esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. E quindi è assolutamente attinente a questo, la replica è assolutamente attinente a questo piano e l'altra osservazione che ci sentiamo di fare è che le compensazioni di cui si parlano sono quelle che Piombino attende da molti anni e non possono certo essere sbandierate adesso perché sono qualcosa che alla popolazione gli è dovuta. Rimango molto sconcertato perché qui non siamo a Piombino, siamo nel consiglio regionale della Toscana, ovvero di una regione di 3 milioni e 668 mila abitanti che ha la sua autorevolezza con posizioni nazionali. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia, che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter, insomma si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese. Io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario e sono fino al 27 ottobre data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri, per rendere l'autorizzazione il più possibile perfetta e il più possibile vicina alle corrispondenze della gente. Accanto all'autorizzazione il rigassificatore, presumibilmente, c'è anche il memorandum Piombino, ovvero le opere che saranno fatte a beneficio della comunità di Piombino e mi muoverò su questa strada. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni. A me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni, ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo. A me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno, ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni, e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene, questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro Governatore per procedere in questa direzione. Erano presenti anche il Presidente della Regione Eugenio Gianni, l'Assessora al Lavoro Alessandra Nardini e l'Assessora all'Ambiente Monia Monni allo sciopero dei Raier Fiorentini proclamato dopo la morte del loro collega, travolto da un SUV la sera di sabato 1 ottobre. E' stato ribadito l'impegno della Regione per la sicurezza e la dignità di lavoratrici e lavoratori ciclofattorini. Dopo la sottoscrizione un anno fa del protocollo che prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai Raider. Noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata, va applicata fino in fondo. Bisogna aprire ancora più canali di dialogo, in questo caso con le società di delivery, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori, è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia la stabilizzazione. Non possono essere precari ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Questo dobbiamo farlo noi ma devono farlo soprattutto a livello nazionale. E spero che questo nuovo esecutivo se ne faccia a carico presto. Torniamo a ripetersi e a piangere dei morti troppo spesso, vittime sul lavoro o vittime su un lavoro che molte volte viene sfruttato e che forse il lavoro non è e quindi serve una riflessione seria, non serve un approccio demagogico, non serve piangere il giorno dopo, serve istituire delle normative che possano veramente garantire le persone che lavorano. Il lavoro è sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature, è un lavoro che oggi nella modernità assume caratteristiche nuove. Quindi servono nuove normative, nuove tutere, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere. E questo accentua ancora di più il divario tra chi, quotidianamente magari senza alzarsi dal proprio divano, percepisce un sostegno, un sussidio e chi magari fatica per poche centinaia di euro a fine mese e questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. Intanto vicinanza alla famiglia ovviamente è che si può dire che è l'ennesima morte sul lavoro, perché di questo si tratta. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo, è che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo, del nuovo millennio, con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. Il cordoglio innanzitutto alla famiglia e ai cari di questa persona, di questo lavoratore che ha perso la vita nel proprio lavoro. Dobbiamo continuare a mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa del lavoro in presenza e all'alleggerimento delle misure pandemiche abbiamo assistito a un incremento. E quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito deve essere alla nostra attenzione, non solo come legislatori, ma anche come istituzioni. Tutto il mio cordoglio è quello del Movimento 5 Stelle alle persone che lasciano la vita nell'esercizio del proprio lavoro. Mi pare un tema che anche il Consiglio regionale ha affrontato più volte, quello dal lato ovviamente soprattutto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo approvato una norma, è stato avviato un lavoro da parte dell'assessorato importante per individuare quelli che sono i rischi più connessi e per aumentare il livello di sicurezza. Ma evidentemente la tutela di chi lavora, di chi fa il rider ancora è assolutamente insufficiente e quindi sia da parte della Regione che ovviamente anche da parte del Governo dovranno essere adottate nuove misure che portino d'intesa con le organizzazioni sindacali a rafforzare gli strumenti di tutela per questo che deve essere un lavoro e non può essere un momento in cui si mette a rischio la vita di tanti ragazzi e ragazze che sono a lavorare e non devono essere a rischiare la loro vita. Mi auguro che il nuovo Governo voglia mettere mano anche a una riforma strutturale di questo settore. Lo dico da consigliere regionale d'opposizione, la Regione Toscana grazie al Presidente Mazzeo è stata anzi è tra le regioni più all'avanguardia in Italia perché per quello che riguarda la competenza regionale abbiamo provato a garantire a questi ragazzi perlomeno un minimo di tutela. Non basta, è un lavoro pagato male, è un lavoro che mette a repentaglio la vita di questi ragazzi che per pochi spiccioli sono costretti a peripezie e folli in mezzo al traffio delle nostre città. Va detto che non tutti, non tutti lavorano con cognizione di causa forse di quello che stanno facendo ma sicuramente è un lavoro che merita più tutela e più normative. Non è possibile che noi ci troviamo a parlare ogni volta di tutela e di normative quando abbiamo di fronte un ragazzo che perde la vita. Dobbiamo farlo nei momenti tra virgolette di pace, cioè nel momento in cui prima che succedano certe cose mettere mano a una riforma. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la legge di modifica del settore legato al termalismo in Toscana di cui è primo firmatario Marco Nicolai del Partito Democratico. Un'attenzione non solo sugli stabilimenti termali. Il termalismo in Toscana riguarda ben 23 comuni, molti dei quali anche se tanti non lo sanno sono nelle aree più periferiche e all'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano perché le terme dove sono state e dove sono fiorenti hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Noi scendiamo chiaramente nella nostra legislatura anche un po' più nello specifico. Per noi la questione è intervenire sulla rigenerazione urbana. Ci sono molti immobili abbandonati o sfitti che ovviamente hanno bisogno di essere rigenerati. La questione della promozione. Lanciamo l'idea di un marchio terme di Toscana con il coordinamento dei 23 comuni. Chiediamo ovviamente un'attenzione per tutto ciò che è strutture ricettive e commerciali connesse agli stabilimenti termali e poi in generale un focus per quelli che sono gli stabilimenti termali di proprietà regionale. Respinto un ordine del giorno della Lega, prima firmataria la consigliera Luciana Bartolini, sottoscritto anche da Fratelli d'Italia Movimento 5 Stelle Forza Italia. L'atto intendeva impegnare la Giunta ad attivarsi per acquisire più immobili del patrimonio termale delle terme di Montecatini, tra cui il complesso del tettuccio. Io la prima volta che feci una proposta di legge su questo era il 2018. Ancora c'era il governatore Rossi. A quei tempi trovai anche i soldi per acquistarlo, perché invece di comprare l'ex maier la regione poteva benissimo acquistare il tettuccio. E avrebbe risolto forse i problemi che sono venuti successivamente, perché poi sono passati altri quattro anni. Speriamo, ora dice che la Corte dei Conti accetterà un progetto per un discorso di acquisto di beni culturali e architettonici, cosa che prima loro davano la colpa alla Madia che non si poteva fare. Invece si può fare, basta cambiare la destinazione e fare ovviamente un progetto. Sono anni che noi chiediamo alla regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo termini Montecatini e SPA. Soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro. C'è stato l'incontro fra Corte dei Conti e Presidente Gianni in cui la Corte dei Conti ha, credo, dato il via libera alla possibilità che la regione acquisti il tettuccio e eventualmente il Comune acquisti di immobili che riterrà opportuni e strategici per l'amministrazione stessa compatibilmente con le risorse ben più limitate del Comune rispetto alla regione. E quindi, ancora una volta, si profila una possibile soluzione che il centro-destra, in particolar modo Fratelli d'Italia, aveva già proposto nei mesi e negli anni scorsi e che fino ad oggi la regione non aveva voluto seguire con tutto quel che ne è venuto in termini da una parte di atti di pianificazione e di programmazione della regione che prevedevano semplicemente lo scioglimento della società e dall'altra parte con l'aggravamento del debito e naturalmente tutta l'incertezza che è gravata fino ad oggi sulla città di Montecatini. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.